buongiorno dal dottor claudio sarascino da benessere ipnosi soluzione oggi voglio rispondere ad un signore che mi ha parlato di bullismo della zona delle marche e se l'ipnosi vera e professionale con la v maiuscola può eliminare gli strascichi del bullismo subiti nell'infanzia soprattutto quando si è piccolini bene la risposta è sì mille per mille anche il sottoscritto ha subito atti di bullismo quando ero ragazzino 8 10 anni circa dove ogni volta che uscivo dalla scuola c'era un ragazzo di nome daniele dove per un motivo per un altro si mi faceva dispetti mi alzava le mani cercava di usare violenza oltretutto era più forte di me per cui io qualche schiaffo glielo davo ma il più delle volte le provavo a distanza di anni da adulti a 40 anni si è presentato nei miei uffici come se nulla fosse e mai è uscito un discorso su quello che fu all'epoca ok è un piccolo scorcio della mia vita però ti posso garantire che con l'ipnosi l'ipnosi è la chiave e la lo strumento la tecnica dove tu puoi aprire le chiavi del tuo regno del tuo subcosciente ed eliminare cancellare come cancelli con un cancelletto sulla lavagna mentale della tua mente come si faceva a scuola quando si cancellava come se fosse ieri io me lo ricordo e tutti i ricordi i brutti i traumi è logico che bisogna andare da un professionista dell'ipnosi vera e professionale non di ipnosi fuffa o ipnosi commerciale o ipnosi da striscere la notizia o ipnosi paura ragazzi ma questa cosa succede in ogni scibile dell'essere umano vero se rifletti non è che tu vai al macellaio al primo che ti trovi davanti o al medico al primo che ti trovi davanti chi domanda comanda se mi chiedi se ti stai chiedendo adesso come devo fare devi chiedere domandare provare però ti posso garantire che la maggior parte dei professionisti dell'ipnosi che possono essere ripeto ancora una volta camici bianchi medici psicologi psicoterapeuti ma anche consuler mental coach life coach eccetera eccetera accreditati certificati devi chiedere un po tutto no naturalmente possono infatti a parlare non tanto le sciance neanche le parole del sottoscritto parlano infatti ritornando al bullismo qualsiasi tipo di bullismo qualsiasi tipo di violenza fisica mentale verbale sessuale chi più ne ha più ne metta possono essere cancellate al 101 per cento con l'ipnosi vera e professionale che cosa succede che tu ti ricordi dell'episodio ma non te può fregare di meno hai capito come funziona non questi ricordi lo strascico del bullismo dei ricordi di un tempo non ti causano danno al tuo corpo alla tua vita visibile invisibile alla tua esistenza al tuo fatto al tuo destino che tu ci credo no e funziona così ma adesso anche se pensi di aver rimosso perché la tua coscienza seppellisce ma rimane sempre nel tuo subconscio ricordo il trauma il problema sacrosanto bene tu non puoi mai dire di vivere la tua vita libera dal tuo passato negativo io ho creato con la mia associazione i prologi associati di los angeles vari mp3 dicesi di autipnosi vera e professionale tra cui uno si chiama no al passato negativo che è indicato anche per questi casi poi magari soltanto con un audio mp3 tu te ne esci al cento per cento oppure puoi utilizzare l'ipnosi regressiva al passato con un professionista l'ipnosi vera e professionale online o dal vivo o anche con delle suggestioni a go go come quest audio mp3 dicesi oppure utilizzare la famosa frase gratis con la tua voce autostanzetta ogni giorno da ogni punto di vista miglioro sempre di più non devi credere devi fare la registra per 21 volte con una voce da ninna nanna con una voce da mantra da preghiera da da lullabai eccetera 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 è come un mantra una preghiera perché il cervello limbico il cervello primordiale il subcosciente l'88 per cento della tua della mia della nostra mente dove risiede l'immaginazione le funzioni neurovegetative la circolazione del sangue la crescita dei capelli la crescita delle unghie eccetera eccetera funziona come il dinosauro di un tempo ok per cui prova prova e il bullismo va via anche in un flat visita la mia fan page su facebook ipnosi auto ipnosi del dottor claudio saracino visita il mio sito internet www.iprolegi associati.com iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione dices del dottor claudio saracino e fai share condividi con amici parenti perché può essere quel quid quella molla che gli cambia la vita veramente condividi perché dobbiamo creare una grande comunità di gente che pensa che può uscirsene dai suoi problemi o soddisfare le proprie esigenze o desiderio ok e poi visita anche i miei profili instagram e twitter benessere ipnosi soluzione dices del dottor claudio saracino e visita se ti piacciono i podcast anche speaker itunes eccetera eccetera un bacio un abbraccio non credere a nessuna parola del sottoscritto non credere devi fare descriverai wow come è successo a me tanti anni fa un bacio un abbraccio e alla prossima dal dottor claudio saracino